Durante il recente festival di Sanremo, Dietro le Quinte, si è svelato un intenso dramma tra Chiara Ferragni e Fedez, documentato nella puntata speciale di The Fairness, Sanremo Special Supreme. La tensione era palpabile mentre la celebre influencer affrontava il palco dell'Ariston, con suo marito, Fedez, anche gli ospite speciale. Oltre alle polemiche politiche scatenate dalle parole di Fedez su Galeazzo Bignami, il bacio scandaloso di quest'ultimo a Rosa Chemical ha catturato l'attenzione. Chiara ha rivelato di aver temuto che il comportamento di Fedez potesse destabilizzarla ulteriormente, chiedendogli di essere un sostegno emotivo. Ma le sue azioni hanno causato tensioni e dispiacere. L'episodio ha provocato una discussione accesa tra di loro nel camerino e Chiara ha confessato quanto sia stata ferita da tutto ciò. Fedez ha ammesso di essere stato fuori controllo e di non aver sostenuto Chiara come avrebbe dovuto, promettendo di lavorare su se stesso e sulla loro relazione per il bene della famiglia. La coppia ha vissuto un momento di tensione anche nel backstage, quando Fedez ha manifestato il desiderio di andarsene, lasciando Chiara sola. Questo dietro le quinte a Sanremo ha svelato le difficoltà affrontate da Chiara Ferragni e Fedez durante un momento cruciale della loro carriera, Mettendo in luce le sfide personali che devono superare per preservare la loro relazione e il benessere della loro famiglia. Lascia la tua opinione nei commenti. Iscriviti e metti un bel mi piace al video. Per noi è importante. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video.